Ritrovati i resti del Twin Otter di HC6, scomparso nei cieli indonesiani venerdì scorso. L'aereo di proprietà della compagnia privata Aviastar a Mandiri era diretto a Makassar. A bordo c'erano tre membri dell'equipaggio e sette passeggeri. I rottami sono stati localizzati a circa 240 km dalla città, dove era previsto l'atterraggio.